buonasera a tutti e bentornati sul canale youtube blu voice live che è collegato anche al canale youtube rubrica dialoghi di gloria marcelli e alla pagina gruppo facebook alla ricerca dell'agnosi oggi cominciamo con la lettura del vangelo di marco secondo insomma rudolf steina e questo primo capitolo sarà accessibile a tutti ma vi anticipo che la lettura del testo proseguirà in maniera riservata solo per gli abbonati al canale blu voice live vi ricordo che per abbonarvi basta spingere sul pulsante abbonati e potrete usufruire dell'intero testo senza interruzioni pubblicitarie e se desiderate anche seguendo gli streaming live come come quello attuale bene cominciamo è noto che il vangelo di marco comincia con le parole questo è il principio del vangelo di gesù cristo per colui che cerca nell'epoca attuale di comprendere questo vangelo di marco queste primissime parole già devono effettivamente racchiudere tre enigmi il primo risulta nelle parole questo è il principio il principio di che come va interpretato questo principio il secondo enigma è il principio del vangelo nel senso antroposofico cosa significa la parola vangelo il terzo enigma è quello di cui già abbiamo spesso parlato ovvero la figura del cristo gesù stesso a chi cerca seriamente di comprendere e di approfondire il proprio se deve risultare evidente che l'umanità si trova in corso di evoluzione di progresso e che di conseguenza ciò che si può chiamare la comprensione di questa o di quella cosa di questa o di quella manifestazione non può a sua volta essere nulla di stabile nulla di circoscritto in un qualsiasi periodo di tempo ma è una comprensione che progredisce di guisa che in ultima analisi è un'esigenza necessaria per chi prenda sul serio le parole evoluzione e progresso che le questioni più profonde dell'umanità vengano con il progredire del tempo sempre meglio sempre più radicalmente sempre più profondamente comprese nei riguardi di un'opera come questa nel vangelo di marco e questo fatto verrà corroborato appunto dai tre enigmi appena esposti non è che ai tempi nostri che un certo rivolgimento della comprensione si è realmente verificato e che lentamente e gradatamente ma chiaramente si è andato preparando ciò che può condurre attualmente ad un vero intendimento di questo vangelo di marco ciò che può condurre ad intendere quello che significa principia il vangelo perché è così. Basta gettare uno sguardo nel passato su ciò che riempiva ancora le anime relativamente poco tempo addietro e si vedrà come il modo di comprendere si possa essere modificato anzi come esso si debba essere modificato nei riguardi di un argomento si fatto. Se risaliamo indietro dal secolo XIX al XVIII e al XVII troveremo che ci avviciniamo sempre più ad un'epoca in cui quegli uomini che per la loro vita spirituale più avevano a che fare con i vangeli potevano prendere le mosse da base di comprensioni affatto diverse da quelle dell'umanità attuale. Che cosa poteva dire a se stesso un uomo del secolo XVIII quando voleva porsi nel generale processo evolutivo dell'umanità se non apparteneva a coloro e nei passati secoli erano ben pochi che per una via qualsiasi avevano relazione con questa o con quella iniziazione con questa o con quella rivelazione occulta. Se egli dunque era un uomo che si trovava nella vita e aveva accolto in sé ciò che viene offerto dalla vita esoterica esteriore. Perfino gli uomini più colti all'apice della cultura del loro tempo non potevano per così dire abbracciare con lo sguardo più di tre millenni della vita dell'umanità dei quali uno ma questo già si perdeva in una certa oscurità nebulosa anteriore all'era cristiana e gli altri due millenni non del tutto completi posteriori alla fondazione del cristianesimo. L'uomo allora stendeva lo sguardo sopra tre millenni. Quando guardava indietro sul primo millennio si trovava di fronte come ad una preistoria misticamente oscura dell'umanità all'epoca degli antichi persiani. Questo oltre alcune cognizioni chiamiamole così rimaste ancora dall'antica vita egiziana costituiva i precedenti di ciò che veniva elaborato dalla vera storia la quale si iniziava allora con l'epoca greca. Ma questo ellenismo formava in un certo qual modo la base della cultura effettiva di quel tempo e tutti coloro che volevano spingere lo sguardo più profondamente nella vita umana lo presero come punto di partenza, presero l'ellenismo e nell'ambito di quest'ultimo comparve tutto ciò che proviene dalle epoche primordiali di questo popolo e del suo lavoro nell'umanità, da Omero, dai tragici greci e in genere dagli scrittori greci. Poi si vide come gradatamente questo ellenismo sia, per così dire, andato declinando come venisse soffocato esteriormente dalla romanità, ma soltanto esteriormente perché in sostanza Roma trionfò dell'ellenismo soltanto politicamente, mentre in realtà accolse la cultura greca, la natura greca. Di guisa che si potrebbe anche dire politicamente i romani hanno vinto sui greci, ma spiritualmente i greci hanno vinto i romani. E durante questo processo in cui l'ellenismo trionfava spiritualmente sulla romanità e attraverso centinaia e centinaia di canali riversava su Roma, dalla quale poi scorreva nella cultura del mondo intero quello che esso aveva prodotto. E durante questo processo fluiva in questa cultura greco-romana ciò che si può chiamare il cristianesimo. Esso si riversò sempre più in questa civiltà greco-romana e subì una trasformazione essenziale quando i popoli nordici germanici parteciparono al progresso di tale civiltà. Per gli uomini del secolo X-VIII, il secondo millennio della storia dell'umanità si è svolto in questo confluire dell'ellenismo, della romanità e del cristianesimo. Fu questo il primo millennio cristiano. Vediamo poi come nel secondo millennio cristiano, nel terzo, cioè della civiltà dell'umanità per gli uomini del secolo X-VIII, vediamo come, sebbene tutto apparentemente si svolga e nello stesso modo, pur non di meno in questo terzo millennio, a volerne approfondire gli eventi, tutto proceda diversamente. Basta ricordare due figure, un pittore e un poeta, i quali, sebbene si presentino un paio di secoli dopo la svolta del millennio, dimostrano non di meno essenzialmente come si è cominciato questo secondo millennio cristiano, come esso segni l'inizio di qualcosa di essenzialmente nuovo per la cultura occidentale, di qualcosa che poi ha proseguito ulteriormente la propria azione. Mi sto riferendo a Giotto, pittore, e a Dante, poeta. Giotto come pittore e Dante come pueta. Queste due figure formano l'inizio di tutto ciò che è venuto dopo e quello che essi hanno dato servì per l'ulteriore sviluppo dell'epoca occidentale. Questi erano i tre millenni che gli uomini potevano abbracciare con lo sguardo. Ma avvenne ormai il secolo XIX. Oggidì, soltanto a colui che vuole osservare più profondamente l'intero sviluppo della cultura dell'epoca, riesce possibile abbracciare con lo sguardo tutto ciò che si è verificato nel XIX secolo, tutto ciò che per mezzo di esso ha dovuto trasformarsi. E tutto questo già sta contenuto nelle anime. Ma oggi sono pochi coloro che riescono a rendersene conto. La visione retrospettiva dunque dell'uomo del X-VIII secolo risaliva soltanto fino all'ellenismo. L'epoca pre-ellenica per lui era qualcosa di indefinito. Ciò che è successo durante il secolo XIX, che pochi hanno compreso e oggi via ancora da pochi ha apprezzato, sì è che l'Oriente, in modo veramente intenso, è penetrato nella cultura occidentale. Questa penetrazione di carattere affatto peculiare dell'Oriente e ciò di cui dobbiamo tener conto nella trasformazione che si verificò nella cultura del secolo XIX. In ultima analisi, questa penetrazione dell'Oriente ha gettato ombre e luci su tutto ciò che è scorso gradatamente nella cultura e che sempre maggiormente vi affluirà imponendo una nuova intelligenza delle cose che l'umanità fino ad allora aveva compresa in modo molto diverso. Se si considerano delle singole figure o individualità che hanno esercitato un'azione sulla cultura dell'Occidente e nelle quali si può trovare a un dipresso tutto ciò che al principio del secolo XIX un uomo che si interessasse alla vita spirituale portava nella propria anima, si potrebbero citare Davide, Omero, Dante, Shakespeare ed anche Goethe, il quale allora penetrava nella vita. Gli scrittori futuri di storia si renderanno perfettamente conto, a proposito della svolta dal XVIII al XIX secolo, che il contenuto spirituale degli uomini in tale epoca è determinato da queste cinque figure. Vivevano fin dentro nelle emozioni più intime dell'anima, molto più di quello che non si creda, quelli che si possono chiamare sentimenti, le verità dei salmi. Viveva ciò che in fondo già si può trovare in Omero ed anche ciò che ha assunto in Dante una forma così grandiosa. Viveva pure quello che, sebbene Shakespeare non esistesse proprio alla stessa guisa, tuttavia lui già si esprimeva nel modo come vive negli uomini dei nuovi tempi. A tutto questo si deve aggiungere l'aspirazione dell'anima umana alla verità, la quale ha trovato poi espressione nella descrizione del Faust e viveva veramente in ogni anima, in modo che spesso è stato detto. Ogni uomo che si sforza di conquistare la verità ha in sé alcunché della natura di Faust. A tutto ciò si aggiunse il fatto che si aprì un orizzonte completamente nuovo, estendentesi oltre i tre millenni compresi appunto dalle cinque figure appena ricordate. Per vie completamente inaccessibili alla storia esteriore. Un oriente interiore penetrò nella vita spirituale d'Europa. E questo si è verificato non soltanto perché ai succitati poemi venne ad aggiungersi ciò che i Veda e la Bhagavad Gita potevano dare. E, imparandosi a conoscere questi poemi orientali, veniva a destarsi per mezzo di essi una speciale sfumatura di sentimento verso il mondo, radicalmente diversa da quella destata dai salmi e da ciò che si trova in Omero o in Dante. Ma si è anche verificato perché sorse qualcosa che per vie occulte è diventato sempre più visibile nel diciannovesimo secolo. Basta ricordare un solo nome che a metà del secolo XIX ha destato molto rumore e ci si renderà subito conto come con esso si è penetrato in Europa per vie occulte qualcosa dall'Oriente. Basta indicare il nome di Schopenhauer. Che cosa colpisce a tutta prima nello Schopenhauer quando ci si astrae dalla parte teoretica del suo sistema e si considera il contenuto del sentimento che pervade l'intero suo pensiero? Colpisce la profonda affinità di quest'uomo del secolo XIX con l'abito mentale e l'atteggiamento del sentimento orientale ariano. In tutti i periodi, direi quasi, in tutte le espressioni dei sentimenti di Schopenhauer vive ciò che si potrebbe chiamare l'elemento orientale nell'Occidente. E questo è passato in Edoardo von Hartmann nella seconda metà del secolo XIX. Tutto ciò, come abbiamo detto, è andato penetrando per vie occulte. Queste vie occulte si comprendono sempre meglio gradatamente quando si vede che nel corso dell'evoluzione del secolo XIX si verificò effettivamente una completa trasformazione, una specie di metamorfosi di tutto il pensiero e il sentimento umano, ma non soltanto in un punto speciale della Terra, bensì nella vita spirituale dell'intera Terra. Per comprendere ciò che è successo in Occidente, basta darsi la pena di paragonare quanto è stato scritto durante il secolo XIX sulla religione, la filosofia o su qualsiasi altro argomento della vita spirituale, con qualcosa che appartenga al secolo precedente, il XIII. Allora si vedrà come una trasformazione, una metamorfosi radicale che si è verificata. Come nell'umanità tutti i quesiti che si riferiscono alle enigmi più elevati dell'universo abbiano perduto di intensità. E come l'umanità tendesse verso impostazioni completamente nuove delle questioni, verso nuovi modi di sentire. Si vedrà come tutto ciò che prima la religione e quello che le appartiene aveva dato all'umanità non potesse più venire dato in ugual modo alle anime umane per mezzo di essa. Invece in Europa si chiedeva ovunque qualcosa che penetrasse più profondamente nei sostrati della religione, qualcosa di più arcano e lo si chiedeva non soltanto in Europa. Questo appunto è il fatto caratteristico, cioè che alla svolta del secolo XIX è successo che sulla terra civile gli uomini dappertutto hanno dovuto cominciare per impulso interiore a pensare diversamente da come avevano pensato prima. Se ci si vuol procurare un'idea esatta di quello di cui effettivamente si tratta, bisogna vedere come, si potrebbe dire, si sia verificato un riavvicinamento generale dei popoli, delle culture e delle credenze religiose dei popoli e tale che i seguaci delle religioni più diverse cominciarono nel secolo XIX ad intendersi fra di loro in modo veramente straordinario. Citerò un esempio caratteristico che ci può dimostrare chiaramente quello a cui ora ho voluto accennare. Nel trentesimo anno del secolo XIX è comparso in Inghilterra un uomo, un bramino. Egli professava nel bramanismo l'insegnamento di Leda perché lo riteneva un insegnamento veramente giusto. Ramon Roy, morto a Londra nel 1836, aveva acquistato una grande influenza sopra molta parte dei suoi contemporanei che si interessavano a tali questioni e aveva fatto su di loro una grande impressione. Vi addistranno in lui che mentre da una parte egli rappresentava indubbiamente un riformatore incompreso dell'induismo, dall'altra però ciò che gli diceva sull'argomento poteva essere compreso da tutti quegli europei dell'epoca che si trovavano all'altezza del loro tempo. Egli non enunciava idee solo comprensibili dal punto di vista dell'orientalismo, ma idee di cui si poteva dire queste possono essere comprese dall'intelligenza umana in generale. Come si presentava Ramon Roy? Egli diceva ad un dipresso, spesso Steiner o meglio i traduttori utilizzano questo ad un dipresso che vuol dire pressa a poco, quindi egli diceva pressa a poco. Io vivo in mezzo all'induismo, in esso vengono adorati vari dèi, vengono adorate le più diverse divinità. Quando si chiede ai miei concittadini perché adorano questi o quelli speciali dèi, essi rispondono che è un uso così antico che non sanno fare altrimenti, così facevano a loro padre, i loro avi, eccetera. E siccome si agevano soltanto sotto questa impressione, la mia patria è caduta nella più crassa idolatria, in una riprovevole idolatria che è dionta a ciò che forma la grandezza originaria della confessione religiosa della mia patria. Era questa una confessione. Egli riteneva contenuta bensì in modo parzialmente contraddittorio, neveda, ma che di Asa aveva ridotto nel sistema vedante in purissima forma per il pensiero umano. A questa fede, gli diceva, desiderava attenersi. E con questo scopo Ramon Roy, non soltanto dai diversi bioni incomprensibili, aveva fatto delle traduzioni di lingua che si potesse comprendere in India, ma aveva fatto degli estratti di quello che gli considerava insegnamento giusto diffondendolo fra gli uomini. Qual era la sua intenzione? Egli credeva di aver riconosciuto che in fondo a ciò che si esprime nei numerosi dèi, in ciò che viene adorato nelle molte idolatrie, vi fosse un puro insegnamento di un Dio unitario primordiale, di un Dio spirituale che vive in tutte le cose, che non viene più riconosciuto dalle idolatrie, ma che dovrà nuovamente penetrare nelle anime degli uomini. E quando questo Bramino dell'India parlava in particolar modo di ciò che egli considerava la giusta vedanta, la giusta fede religiosa dell'India, non sembrava agli uditori di sentire qualcosa di estraneo, ma a coloro che lo comprendevano bene sembrava che egli predicasse una specie di fede della ragione, che in ultima analisi ognuno potrebbe pure conseguire, purché mosso dalla propria ragione a rivolgersi al Dio unitario. Erramo Unroi aveva seguaci, fra gli altri anche Rabidranath Tagore o Tagore. Uno dei seguaci, un hindù, e questo è specialmente interessante, ha tenuto una conferenza nell'anno 1870 sopra Cristo e il cristianesimo. È straordinariamente interessante sentir parlare un hindù sul Cristo e il cristianesimo. L'oratore non penetra nel vero mistero del cristianesimo, non ne parla. Dall'intero corso della conferenza si scorge che egli non può afferrare il fatto fondamentale, che cioè il cristianesimo non emana da un maestro personale, ma emana dal mistero del Golgotha, da un fatto storico universale, dalla morte e dalla resurrezione. Ciò che gli può comprendere però e che gli riesce evidente è che nel Cristo Gesù abbiamo dinanzi a noi una figura di una straordinaria importanza, di uno straordinario significato per ogni cuore umano, una figura che deve servire di ideale per l'intera storia del mondo. È straordinario sentire un hindù che parla di Cristo, sentirgli riconoscere che se si approfondisce il cristianesimo si deve pur dire che questo cristianesimo dovrà sperimentare un'ulteriore evoluzione nell'Occidente stesso. Perché, diceva l'hindù, ciò che gli europei portano nella mia patria come cristianesimo non mi sembra che sia il vero cristianesimo. Dagli esemplicitati si vede che non soltanto in Europa gli spiriti umani hanno cominciato, in un certo modo, a voler approfondire le fedi religiose, ma che anche nell'India lontana, come pure si potrebbe dire in molte altre regioni della Terra, gli spiriti cominciavano ad agitarsi e ad avvicinarsi da punti di vista completamente nuovi a ciò che già avevano avuto per secoli e millenni. Questa metamorfosi delle anime nel secolo XIX riuscirà evidente soltanto nell'avvenire e la futura storia potrà soltanto riconoscere che attraverso questi processi, i quali apparentemente non interessavano che poche persone, ma che attraverso migliaia e migliaia di correnti sono affluiti nei nostri cuori e nelle nostre anime e formano il contenuto delle anime di tutti gli uomini che in un modo qualsiasi prendono parte della vita spirituale, dovrà presentarsi ad un completo rinnovamento, una vera trasformazione di tutti i quesiti, di tutte le interpretazioni delle antiche questioni. Difatti oggi in tutto il mondo si penetra veramente molto più addentro nelle questioni. Il nostro movimento spirituale desidera appunto la risposta a questi quesiti. Il nostro movimento spirituale è convinto che a questi quesiti, così come vengono posti, non si trova risposta né per la via delle antiche tradizioni né per quello della scienza naturale moderna o di una concezione del mondo che lavori soltanto con i fattori della scienza naturale moderna, ma che è necessario ricorrere alla scienza dello spirito, alle indagini nei mondi spirituali. Insomma, l'umanità oggi lì, all'attuale punto del corso della sua evoluzione, deve porre dei quesiti ai quali non si potrà rispondere se non per mezzo delle indagini nei mondi spirituali. Lentamente e gradatamente sono sorte nella vita spirituale occidentale anche quelle cose le quali armonizzano con le più belle tradizioni dell'Oriente. Voi sapete che è sempre stato ripetuto che la legge della reincarnazione risulta dalla vita spirituale occidentale stessa e non occorre che questa legge ci venga trasmessa per via storica dal buddismo, così come oggi dì per esempio non occorre che la dottrina pitagorica ci venga trasmessa dalle tradizioni storiche. Questo è sempre stato ripetuto. Ma il fatto che l'idea della reincarnazione sia affiorata nell'anima moderna costituisce il ponte che, superando i tre millenni già caratterizzati, raggiunge la figura del Buddha. L'orizzonte venne allargato, si estese sull'evoluzione dell'umanità al di là dei tre millenni e maturarono così ovunque nuovi quesiti ai quali soltanto la scienza dello spirito potrà dare risposta. Poniamo subito, in correlazione col Vangelo di Marco, il quesito che risulta dall'inizio di quel Vangelo, il quale dice che in questo Vangelo verrà dato il principio del Vangelo di Gesù Cristo. E ricordiamoci che subito dopo queste parole di introduzione si trova non soltanto la caratteristica degli antichi passi dei profeti, ma l'annuncio del Cristo per mezzo del Battista Giovanni e che questo annuncio viene caratterizzato dal Battista in modo che si può riassumere nelle parole «si è compiuto il tempo, il regno del divino si stende sull'esistenza terrena». Che cosa significa questo? Con la luce che si può ottenere dalle indagini scientifico-spirituali moderne cerchiamo ora di esaminare i tempi nel centro dei quali in un certo qual modo sta questo compimento. Indaghiamo ciò che significa un antico tempo è compiuto, un nuovo tempo si inizia. Per meglio comprendere occorre rivolgere lo sguardo sopra qualche evento dei tempi antichi, forse non molto antichi e guardare poi ciò che viene ai tempi nuovi in modo che al centro di queste due epoche che si guardano vi sia il mistero del Golgotha. Prendiamo dunque qualche evento antecedente al mistero del Golgotha e qualche altro posteriore e cerchiamo di approfondire la differenza dei tempi per poter riconoscere fino a che punto un tempo antico è stato compiuto e fino a che punto è principiato un tempo nuovo. E vediamo di non divagare le astrazioni ma di attenerci al concreto. Vorrei dirigere il vostro sguardo verso qualcosa che appartiene, per così dire, al primo millennio dell'antico modo di considerare l'evoluzione dell'umanità. Dai tempi più antichi di questo primo millennio emerge la figura di Omero, il poeta e cantore greco. Poco più del nome è rimasto di questo poeta al quale vengono attribuiti due poemi, Liliade e l'Odissea. Poco più del suo nome ci è rimasto e perfino su questo sono stati sollevati gravi dubbi durante il secolo XIX. Ma di ciò ora non ci preoccupa parlare. La figura di Omero è di quelle che tanto più si ammirano quanto più si imparano a conoscere. E si può dire che per colui che si occupa di queste cose, le figure create da Omero nell'Eliade e nell'Odissea si presentano a noi più viventi di qualsiasi figura soltanto politica della Grecia. Da persone diverse che hanno studiato a fondo Omero è stato detto che dalla precisione della descrizione, dal modo che egli espone, si debba veramente ritenere che egli sia stato un medico. Altri reputano che egli debba essere stato un artista plastico e altri ancora che egli sia stato in qualche modo un artigiano. Napoleone ha ammirato la tattica, la strategia nella descrizione di Omero. Altri lo ritengono un mendicante girovago. Ad ogni modo emerge l'individualità assolutamente peculiare di questo Omero. Scegliamo ora uno dei suoi personaggi, Ettore. Vi prego, appena ne avete il tempo, di osservare l'esilia della figura di Ettore. Vi prego, così come viene scrupolosamente descritta. Osservate il rapporto di lui con Troia, sua patria, il suo rapporto con la sua sposa Andromaca, con Achille, con l'esercito e con la direzione di esso. Cercate di far risorgere la figura di quest'uomo davanti all'anima vostra, di quest'uomo con tutte le tenerezze dello sposo, completamente legato all'antico senso, alla sua città natale, a Troia, a che poteva essere soggetta di illusioni. Riflettete al suo rapporto con Achille, come soltanto poteva accadere ad un grand'uomo. Ettore, come ce lo descrive Omero, si presenta a noi come un uomo di grande umanità. La sua figura emerge da tempi primordiali, perché naturalmente Omero descrive ciò che ha preceduto l'epoca sua, ciò che si perde ancora più nelle tenebre del passato. Dalla sua descrizione emergono perciò delle figure che, come tutte le figure di Omero, già appaiono assai mitiche per gli uomini moderni. Vi faccio rilevare questa unica figura. Scettici e filologi di ogni genere possono porre in dubbio che un Ettore sia mai esistito, così come dubitano pure che vi sia stato un Omero. Chi però prenda in considerazione tutto il contenuto umano di cui può essere tenuto conto, acquisterà la convinzione che Omero descrive soltanto dei fatti esistiti come tali e che Ettore è una figura che è vissuta in Troia come pure Achille e le altre figure da Omero descritte. Esse ci sono ancora davanti come figure reali dell'esistenza terrena. E volgiamo verso di essero sguardo come a uomini di altra specie, che oggi di ancora difficilmente si possono comprendere, ma che per virtù del poeta si affacciano dinanzi all'anima nostra, nei più singoli dei loro particolari. vogliamo rappresentarci la figura di Ettore, che viene vinto da Achille, come una vera figura di uno dei principali condottieri troiani. Tale figura rappresenta qualcosa che appartiene veramente all'epoca precristiana dell'umanità. Da essa si può rilevare come fossero gli uomini di quell'epoca precristiana, quando il Cristo ancora non era vissuto. Dirigo il vostro sguardo ora verso un'altra figura, una figura del quinto secolo precristiano, un grande filosofo che ha passato gran parte della sua vita in Sicilia, è una figura straordinaria, è quella di Empedocle. Egli è stato non soltanto il primo che ha detto dei quattro elementi, fuoco, acqua, aria, terra, che tutto ciò che si verifica nella sostanza procede dal combinarsi o scombinarsi di questi quattro elementi, secondo i principi di odio, di amore che dominano in essi, ma per primo ha lavorato in Sicilia in modo da far sorgere delle organizzazioni statali importanti. Egli ha viaggiato e ha condotto alla gente alla vita spirituale. Quando osserviamo la vita di Empedocle, essa si presenta a noi come una vita altrettanto avventurosa, quanto profondamente spirituale. Altri ne dubitino, ma la scienza dello spirito, sa che Empedocle ha vissuto in Sicilia come uomo di stato, come iniziato, come mago, così come Ettore ha dimorato in Troia, quale ce lo descrive Omero. E per caratterizzare lo strano rapporto fra Empedocle e il mondo, ci si presenta il fatto che non è inventato, ma vero, cioè che gli pose termine alla sua vita per unirsi con tutta l'esistenza che lo circondava, precipitandosi nell'Etna e ardendo nel fuoco di esso. Così si presenta a noi questa figura del tempo pre-cristiano. Esaminiamo con i mezzi della moderna scienza dello spirito queste figure. Sappiamo anzitutto che queste figure si ripresenteranno, che le anime tornano nella vita. Non terremo conto delle loro incarnazioni intermedie e le cercheremo nell'epoca post-cristiana. Otterremo così un'idea della trasformazione dei tempi, qualcosa che ci aiuterà a comprendere come il mistero del Golgotha abbia agito nell'evoluzione dell'umanità. Se si può dire figure come quella di Ettore e di Empedocle sono ricomparse, come si muovono esse tra gli uomini nei tempi post-cristiani? Se si può dire questo, si arriva a realizzare l'azione nel mistero del Golgotha, il compimento e l'inizio della nuova epoca delle anime. Poiché ci troviamo qui riuniti tra antroposso fiseri, non abbiamo da spaventarci delle comunicazioni della vera scienza spirituale, che può essere verificata per mezzo di ciò che ci si presenta esteriormente. Vorrei dirigere ora il vostro sguardo verso qualcosa che è successo nell'epoca dopo il Cristo. Si potrebbe ora dire, di nuovo, che si tratta di una figura poetica, ma questa figura poetica si riferisce appunto ad una reale personalità che è veramente esistita. Dirigo il vostro sguardo sulla figura creata dallo Shakespeare nel suo Amleto. Chi conosce l'evoluzione dello Shakespeare, per quel tanto che esteriormente la si può conoscere, ma specialmente chi la conosce attraverso la scienza dello spirito, sa che l'Amleto dello Shakespeare è la trasformazione del vero principe danese che una volta è realmente esistito. La figura Amleto che Shakespeare ha creato è anche vissuta. Non posso raffermarmi a dimostrare come la personalità storica risiede veramente a base della figura poetica creata dallo Shakespeare, ma vorrei esaminare il risultato scientifico spirituale, vorrei dimostrarvi con questo esempio evidente come lo spirito dell'antichità risorga nuovamente nell'epoca post cristiana. La vera figura che risiede a base dell'Amleto creato dallo Shakespeare è Ettore. Viveva in Amleto la medesima anima che era vissuta in Ettore. Proprio da un esempio caratteristico si fatto, dal quale emerge chiaramente la diversità con cui l'anima si esplica, ci si può rendere conto di quello che è avvenuto nel tempo intermedio. Da un canto ci si presenta una personalità come quella di Ettore nell'epoca pre cristiana. Poi penetra nell'evoluzione dell'umanità il mistero del Golgotha e la scintilla che sprofonda in quell'anima fa sorgere in essa, in una figura come quella di Amleto, il prototipo di Amleto del quale Goethe ha detto, un'anima che non è all'altezza di nessuna situazione e alla quale nessuna situazione conviene, un'anima alla quale è assegnato un compito che essa non può adempiere. Si può domandare perché Shakespeare ha espresso Amleto in quel modo? Egli non ne era consapevole. Chi però scruta questi rapporti per mezzo della scienza e dello spirito? Sa le forze che vi stanno dietro. Il poeta crea nell'incosciente perché gli si presenta dinanzi dapprima la figura che gli crea e poi, come in un quadro di cui egli non sa nulla, gli si presenta l'intera individualità che a quella si riconnette. Perché fa Shakespeare emergere appunto delle peculiari qualità del carattere di Amleto e le fa risaltare spiccatamente, mentre probabilmente da nessun osservatore contemporaneo di Amleto sarebbero stati osservati. Perché Shakespeare le osserva sullo sfondo del tempo. Egli sente quanto un'anima si sia modificata nel passaggio dalla vita antica a quella nuova. Amleto l'incerto lo scettico, che non sa orientarsi nelle sorti della vita, che esita e tentenna. Ecco ciò che è diventato quell'Ettore, che era così sicuro del fatto suo. Dirigo il vostro sguardo verso un'altra figura del nuovo tempo, presentatasi a sua volta all'umanità come immagine poetica in un poema. Il ricordo del protagonista di questo poema vivrà certo ancora lungamente nell'umanità, anche quando nell'avvenire ci si ricorderà lontanamente del poeta, come ora si ricordano Omero e Shakespeare, dei quali veramente si può dire che di uno non ci sa niente e dell'altro ben poco. Da molto tempo sarà già stato dimenticato, nonostante la stampa e tutti i mezzi moderni, ciò che i cronisti storici e biografi raccontano di Goethe e la ragione per cui gli uomini si sono tanto interessati di lui, quando ancora sopravviverà con grandezza, scultoreamente vivente, la figura del Faust che Goethe ha creato. Così come gli uomini nulla sanno di Omero, ma di Ettore e Achille invece sanno molto, così verrà un tempo in cui non sapranno molto della personalità di Goethe, e sarà un bene, ma sempre sapranno di Faust. Faust a sua volta è una figura la quale, come si presenta letteralmente in Goethe, quasi come in sé completa, si riferisce ad una figura vera. Essa è vissuta nel secolo XVI. È esistita qui sulla Terra, seppur non quale Goethe la descrive nella figura del suo Faust. Perché Goethe la descrive in quel modo? Goethe stesso non lo sapeva, ma quando egli volgeva lo sguardo su Faust, su quel Faust trasmessogli dalla tradizione e che già conosceva fin da ragazzo nei giochi di Burattini, agivano allora su di lui le forze di ciò che risiede dietro Faust, di ciò che era un'antecedente incarnazione di Faust. Empedocle, l'antico filosofo greco. Tutto questo irradiava nella figura di Faust. E si potrebbe dire, se Empedocle si precipita nell'Etna, si unisce all'elemento fuoco della Terra, quale straordinabile, mirabile spiritualizzazione in un certo qual modo di questa, chiamiamola così, precristiana mistica della natura, fattasi azione, ci riendata nel quadro finale del Faust Goetiano con l'ascesa di Faust nell'elemento fuoco del cielo per mezzo del Pater Seraphicus, eccetera. Lentamente e gradatamente una direzione spirituale a fatto nuova si è andata affermando in ciò a cui gli uomini aspirano più profondamente. Già da molto tempo cominciò a verificarsi il fatto negli spiriti più profondi dell'umanità che, senza sapere niente di reincarnazione o di karma, quando contemplavano un'anima per sé grande e desideravano descriverla dalle profondità della sua vita più intima, descrivevano ciò che risplendeva in essa dalle incarnazioni precedenti. Come Shakespeare non sapeva che Amleto fosse Ettore, ma lo descrisse a quel modo, sebbene nulla sapesse che in Amleto e in Ettore viveva la medesima anima, così pure Goethe descrive Faust come se dietro di questo vi fosse l'anima di Empedocle, con tutte le sue peculiarità, perché in Faust appunto vi era l'anima di Empedocle, ma è caratteristica il fatto che il corso e il progresso del genere umano va proprio così. Ho messo in rilievo due figure caratteristiche, delle quali si può vedere come i grandi antichi si presentino in un'epoca moderna post-cristiana, talmente scossi nel profondo della loro anima da non sapersi orientare che difficilmente nella vita. In essi vi è tutto ciò che prima pure vi era. Se per esempio si penetra nella figura di Amleto, si trova che l'intera forza di Ettore è in lui, ma si sente che questa forza non può esplicarsi nell'epoca post-cristiana, che essa trova allora degli ostacoli, perché in quest'epoca ha agito sulle anime qualcosa che rappresenta un inizio, mentre prima, invece, quando le figure si presentano a noi nell'antichità, abbiamo a che fare con una fine. Tanto Ettore quanto Empedocle rappresentano figuratamente una conclusione. Essi ci stanno dinanzi scultoriamente isolati. Ciò però che prosegue la propria azione nell'umanità deve saper procedere per nuove vie in nuove incarnazioni. Così, Ettore in Amleto, Empedocle in Faust, il quale rappresenta tutto ciò che è voraginosa aspirazione verso le profondità della natura, il quale contiene in sé l'intero elemento Empedocleo, ed è il solo a poter dire, per via di questa natura così profonda, voglio per un tratto mettere da parte la Bibbia e voglio essere un naturalista e un medico, non voglio più essere un teologo. Faust, il quale sentiva la necessità di accompagnarsi ad entità demoniache, ciò che gli ha permesso di vagare per il mondo sentendone meraviglia, ma rimanendo incompreso. In tutto questo continua l'azione dell'elemento che proviene da Empedocle, ma che non si può orientare nei riguardi di ciò che l'uomo deve essere dopo l'inizio della nuova epoca. Ho voluto dimostrare con queste osservazioni come un violento cambiamento si sia palesato in anime molto importanti, in anime sul conto delle quali ognuno può informarsi. Ho voluto dimostrare che se si penetra nelle profondità di esse, questo forte cambiamento si fa manifesto. E se si domanda che cosa è avvenuto tra le antiche incarnazioni e quelle nuove disifatte individualità, allora si ottiene sempre la risposta è avvenuto il mistero del Golgotha. Quello che il Battista annunciava dicendo è compiuto, si è compiuto il tempo. I regni dello spirito o i regni del cielo passano nel regno umano. Veramente questi regni del cielo penetrano violentemente in questo regno umano? E coloro che interpretano questo fatto esteriormente non lo possono appunto comprendere. Questo fatto penetrò con tale forza che grandezze antiche, in sé salde e compatte, hanno dovuto ricominciare di bel nuovo la loro evoluzione sulla Terra e che appunto esse, fino al termine dell'antica epoca, fino al mistero del Golgotha, ci rivelano come si fosse allora consumato qualcosa che aveva trovato il suo compimento e che ha posto gli uomini in modo che essi si presentano a noi come personalità per sé complete. E si è presentato poi qualcosa per cui è stato necessario che le anime iniziassero un nuovo principio, che tutto venisse formato a nuovo, venisse rifuso e che delle anime già grandi apparissero ormai come anime piccole, perché essendo cominciata un'epoca affatto nuova, dovevano esse trasformarsi e tornare all'infanzia. Questo è ciò che dobbiamo iscriverci nell'anima, se vogliamo comprendere quel che significano le prime parole del Vangelo di Marco. Il principio. Veramente si tratta di un principio che scuote le anime nel più profondo del loro essere, che porta un impulso completamente nuovo nell'evoluzione dell'umanità. Un principio del Vangelo. Che cos'è il Vangelo? È ciò che discende dai regni, da noi già spesso descritti nelle gerarchie delle entità superiori, dove stanno gli angeli, gli arcangeli, e discende attraverso il mondo, il quale si eleva al di sopra del mondo umano. Così si acquista la visione di un significato più profondo della parola Vangelo. Un impulso che discende per il regno degli arcangeli e degli angeli. Questo è il Vangelo. Ciò che discende da questi regni penetra nell'umanità. Tutte le traduzioni astratte non colgono in ultima analisi nel segno. In realtà la parola Vangelo già in sé deve indicare che ad un dato momento comincia a scorrere sulla terra qualcosa che prima scorreva soltanto dove stavano gli angeli e gli arcangeli e che è disceso e scorre qui, giù, sulla terra e vi scuote le anime, anzi agita proprio principalmente le anime più forti. Ed è questo principio il quale ha dunque una continuazione che viene preso in conto. Vale a dire il Vangelo continua. A quell'epoca vi è stato il principio e vedremo in ultima analisi che l'intera evoluzione dell'umanità da quell'epoca in poi è una continuazione del principio, cioè dell'affluire dal regno degli angeli dell'impulso che si può chiamare Vangelo. Non saranno mai troppe le ricerche e le indagini quando si vogliono caratterizzare i singoli Vangeli e nel Vangelo di Marco appunto ci si paleserà che lo si può comprendere soltanto se si comprende nel senso giusto l'evoluzione dell'umanità, con tutti i suoi impulsi, con tutto ciò che si è verificato durante il suo corso. Non ho voluto caratterizzarvi questo fatto esteriormente, ma ve l'ho voluto caratterizzare nelle anime e dimostrare come effettivamente soltanto il riconoscimento del fatto della reincarnazione, la quale si è applicata ad una vera ricerca cipalesa, il divenire di anime come quelle di Ettore e di Empedule, possa richiamare davanti all'anima nostra l'intero significato dell'impulso venuto per mezzo dell'avvento del Cristo. Altrimenti si potranno esporre bellissimi argomenti, ma ci si arrestano di meno alla superficie. Ma ciò che è vera, anzi che vi era, di impulso Cristo dietro ad ogni evento esteriore. Si palesa veramente soltanto quando si scruta la vita a lume della ricerca spirituale, quando si riconosce come il compimento della vita non si effettui soltanto nei suoi singoli particolari, ma anche nel susseguirsi delle reincarnazioni. L'idea della reincarnazione va presa sul serio, si deve introdurla veramente nella storia di Guisa che diventi un elemento vivificante della storia stessa, in modo che diventi. Allora si paleserà l'azione dell'impulso principale dell'evento del Golgotha e questo impulso, che già spesso abbiamo descritto, si paleserà specialmente nelle anime. Grazie per essere stati con me. Al prossimo video, per gli abbonati. Ciao!